Grazie. Collega, allora vi dirò soltanto, prima di lasciare a loro la parola, qualche cosa per presentarli un po'. Michelangelo Frammartino è nato a Milano, dalle sue origini però calabresi, si è formato, si è scritto alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, si è formato presso la civica scuola del cinema per la quale ha prodotto diverse installazioni di videoarte e ha lavorato anche come scenografo per film e videoclip e ha girato lì i suoi primi cortometraggi negli anni 90 come Tracce, L'occhio e lo spirito, Scappa Valentina, Io non posso entrare, del 2002. Il suo primo lungometraggio è del 2003, Il Dono, che è stato presentato al Festival di Locarno, poi nel 2010 questo film che abbiamo visto adesso, le quattro volte, e tutti i premi che ha vinto ve li ho già enumerati prima. Dal 2005 insegna istituzioni di regia all'Università degli Studi di Bergamo, nel 2013 ha tenuto anche un workshop presso l'Università della Calabria. Giuseppe Moccia è il nostro collega della Società Psicoanalitica Italiana, è uno psichiatra, un analista con funzioni di training. È stato del nostro, del centro di Roma di psicoanalisi, ha avuto diverse cariche, sia quella di presidente, anche quella di segretario scientifico. Ha scritto tantissimi lavori che non vi sto più a enumerare, diverse pubblicazioni. Vi dico soltanto quali sono, diciamo, le aree delle quali si è più interessato, che sono non a caso il tema delle memorie, i processi di identificazione, si è occupato del grande tema del trauma e dissociazione, e anche moltissimo del rapporto tra psicoanalisi e neuroscienze. Li ringrazio entrambi e non so come vi siete messi d'accordo per chi voleva iniziare a parlare prima. Hai iniziato io. Michelangelo, allora. Allora, che... si sente? Sì. Ok, no, non pensavo di dover iniziare io. Avete capito, intanto è un film senza parole, quindi non immaginate, non aspettatevi che io sia bravo a parlare, quindi se ho scelto di lavorare con le immagini è proprio per qualche difficoltà con le parole. Allora, se il tema è la memoria, ok, la cosa che mi viene da dire subito è che io tendo a lavorare, avendo avuto una formazione d'architetto, come tu hai ricordato, che poi è la mia formazione. Cioè se io devo pensare a dove si è costruita la mia identità di filmmaker, non penso alla scuola di cinema, non penso a tutti i workshop, ma penso alla facoltà di architettura. E la facoltà di architettura in realtà è stata importante quando ho capito che l'architettura non ha solo, come dire, una dimensione spaziale, ma una dimensione temporale. Appunto c'è la dimensione della memoria, c'è il passato, eccetera, eccetera. C'è il fatto che tu costruisci una cosa e poi qualcuno la abiterà dopo, no? E deve poterla far sua, no? Questo è un aspetto importante, io mi sono portato nel cinema, poi dovete, lo decide il pubblico, insomma, se questo funziona. Però mentre noi girevamo questo film, mentre io lo giravo ed è stato girato tra il 2007 e il 2009, il problema per me era come potessero queste immagini, quelle immagini girate in quel momento, essere vive dopo, per esempio adesso nel 2016, no? Come fanno a non essere solo dei cadaveri, insomma, no? Come fanno ad essere vivi? E questa dimensione è una dimensione che io mi porto dall'architettura, no? In architettura si tende, per esempio, a distinguere qualcosa che appartiene al territorio del monumento, che ha a che fare con il passato, che cerca, come dire, di tenerlo lì, di rammentarlo a tutti, no? C'è stata quella battaglia ed è stata vinta, si costruisce un obelisco, qualcosa che ricordi quel momento, nonostante il passare dei secoli. E poi invece c'è la dimensione dell'evento, c'è qualcosa che continua a cambiare, no? Io ricordo un proposito di architetture evenemenziali, no? Un lavoro molto semplice di alcuni amici che avevano realizzato una piccola piazza, che però era fatta di strati di materia che si consumava camminandoci su, no? Cioè i passanti, le persone che attraversavano questa piazza, la consumavano e lo strato bianco principale, piano piano, lasciava lo spazio a quello giallo, secondario, terzo, no? Quindi diventava una sorta di grafico vivente dei percorsi, no? Quindi era un'architettura vivente. E questa dimensione dell'evento è quella che mi sono portato dietro nel cinema. Cioè come fa un film ad essere vivo? Come si fa a consumare sotto gli occhi di quelli che lo guardano, no? Questo film era, insomma, si è tentato di costruirlo in questa maniera, di far sì che le persone, poi non so cos'è accaduto in sala stasera, insomma, ma se ne potessero appropriare. E anche se ha a che fare con il passato, con i riti, con riti ancestrali, con dei luoghi dove le tracce sono vive, le leggi. Però il problema era quello di realizzare un oggetto vivo, di cui il pubblico si potesse appropriare. Beh, io comincio così. E intanto un film che è durato una lunga gestazione, no? Dicevi che ci sono voluti parecchi anni, no? Per realizzarlo. Da quando abbiamo iniziato, quando l'abbiamo presentato a Cannes nel 2010, io ho iniziato nel 2005. Quindi cinque anni di lavorazione. Sì. Posso dire anche quello che ci stavi dicendo prima, anche della tua passione anche proprio per l'immagine, per il disegno, no? Questo è un film anche che si nutre molto, no? Di queste immagini bellissime. Sì, lo so, per esempio, io non scrivo, tendo a non scrivere i progetti e tendo a disegnarli. Cioè, quindi la sceneggiatura... Poi c'è qualcuno che scrive, no? Perché voi sapete che i finanziatori hanno bisogno di una sceneggiatura. Però, e quella arriva proprio in fase finale. Però la vera e propria progettazione, per me, avviene attraverso il disegno, la fotografia e attraverso un collage di queste materie. Sette nocce. Sì, per mantenere il senso di un'interlocuzione. Certo, il problema che ti hai riposto, che era come mantenere vive delle immagini anche a distanza di anni, credo che abbia a che fare con l'autenticità. Può restare vivo qualche cosa che è autentico perché ha una risonanza emotiva. E questo è una delle caratteristiche del primordiale dell'arcaico. È come una dimensione primaria, prima ancora della parola. La parola significa, la parola ci permette di pensare, la parola ci dà una traiettoria temporale rispetto al futuro, ma toglie qualcosa, che è l'esperienza primaria. Noi psicanalisti abbiamo tutto un dibattito aperto su che cosa succede alla mente dell'essere umano quando passa dall'età infantile, in cui ha ancora un linguaggio non verbale, ha un linguaggio soltanto con pochi fonemi, all'altro in cui acquisisce invece l'uso della parola e del simbolo. Ecco, quell'esperienza primaria è anche un'esperienza, oltre che essere preverbale, è un'esperienza che quando le cose vanno bene, quando il cucciolo dell'uomo non fa la fine del capretto, per esempio, che è un'esperienza piena di emozioni, è quello che quindi chiama lo spazio privato del sé, un nucleo più profondo della nostra autenticità, nella quale, in questo mondo moderno, al quale siamo iperesposti, lo dico senza fare la solita critica della modernità, perché noi siamo fatti per adattarci al mondo, cioè la natura ci dà dei dispositivi per andare incontro al mondo e per riuscire anche ad effettuare una torzione dalla nostra soggettività al mondo. Però, mentre facciamo questo, contemporaneamente sentiamo il bisogno di conservare uno spazio privato in cui siamo non conosciuti, un giardino segreto, che è un nucleo più profondo del sé, il nucleo emotivo del sé. Io penso che uno dei motivi per cui affascinano film di questo genere è perché ci presentano questa dimensione. La prima domanda che mi sono posto dopo aver visto il film, ho detto, va bene, questo film mi è piaciuto, ma perché mi è piaciuto? Cosa è che mi attrae? E mi sono dato due risposte. Questa era la prima. Mi è piaciuto perché proprio descrive questa dimensione senza tempo e in cui c'è la ripetizione rituale. Anche la tecnica di narrazione ha delle ritualità. Quella camera fissa fra la casa del pastore e lo stazzo delle capre con il passaggio tutte le mattine del camioncino. Ecco, la dimensione della temporalità e la dimensione della ripetitività sono due categorie dell'inconscio, sono due categorie dell'essere. E noi veniamo da lì. Quindi io credo che l'immagine, che è quella che cattura in maniera più genuina, perché non mediata dalla parola, l'esperienza primaria emotiva è quella che più ci affascina e se riusciamo a parlare bene con le immagini, quella è qualcosa che rimane nel tempo. Poi mi sono detto, però non ti puoi nascondere che il film, in genere i buoni film, sono come uno psicanalista per lo spettatore. Nel senso che riattivano ricordi. Uno sta nella stanza di analisi e dice ho pensato che. Mi è venuto in mente, adesso non so perché, ma proprio oggi mi è venuto in mente, mentre venivo, che quando avevo dieci anni, questo è una ripetizione evocativa, è una ripetizione in campo psichico, diceva Freud. Possiamo ricordare alcune cose. Io infatti ho ricordato conoscenze dichiarate, pensate della mia adolescenza in un'altra montagna, un po' più su della Calabria, in cui anch'io ho assistito al lavoro dei Carpionari. Quindi diciamo, qui c'era una memoria evocativa soggettiva, ma la cosa che mi interessava era che due memorie soggettive, quella del regista e quella mia, si incontravano e diventavano una memoria condivisa. Allora questo genere è il senso di una storia e questo mi sembrava un altro aspetto importante. Un'altra cosa che mi ha dato da pensare è però il fatto che come una buona seduta, se un film funziona, ci fa ricordare anche quello che non sapevamo. non soltanto ciò che sappiamo di aver sperimentato, perché ce lo ricordiamo, ma ciò che abbiamo vissuto senza poterlo ricordare, perché non l'abbiamo potuto pensare. Nel nostro campo c'è un famoso psicanalista inglese che ha definito questo il conosciuto non pensato. Cos'è il conosciuto non pensato? È l'esperienza delle prime relazioni affettive con l'ambiente delle cure. Che vuol dire l'esperienza delle prime relazioni affettive? C'è in ogni coppia madre e bambino uno scambio naturalmente affettivo, uno scambio di fonemi, uno scambio di parole, ma soprattutto c'è il passaggio silenzioso, non dichiarato, non detto, di come si fa a regolare gli affetti. Troppo su, bisogna stare un po' giù. oh che esuberanza, ma è molto bello tutto ciò che è un invito implicito a prendere l'iniziativa e ad essere fiero di sé. Se le cose vanno male, qualche cosa che è assolutamente normale, che dovrebbe accadere, e cioè che il gesto di un bambino viene raccolto affettivamente dalla madre e amplificato, al contrario, viene inibito. Ma anche questo, in ogni caso, è una regola di come si contengono o si esaltano le emozioni. Queste regole non sono dette, non sono dichiarate, eppure noi le mettiamo in memoria attraverso processi identificatori. Come possiamo dunque venirne a conoscenza? Nella ripetizione. Le ripetiamo. Ecco, uno dei luoghi della ripetizione, oltre alla stanza d'analisi, e il transfert fuori dalla stanza d'analisi nei nostri rispetto alle persone a cui siamo affezionati. Uno dei luoghi della ripetizione è un buon film. Il buon film è quello che riesce ad evocare memorie, e questa volta dico memorie, non ricordi, perché non le abbiamo pensate. Quindi sono memorie di qualche cosa, memorie del passato, che però non possiamo tradurre in parole. E che però possono essere rievocate in azione, per esempio, attraverso processi identificatori con aspetti, risonanze, emozioni, immagini. Vedete che sto parlando di tutto ciò che c'è prima della parola, che è un film epoca. È come se un film servisse a recuperare il rimosso. Quando recupera addirittura il dissociato, cioè c'è che abbiamo vissuto e che non abbiamo potuto registrare cognitivamente, allora l'esperienza di un film è un'esperienza veramente trasformativa. E poi c'era da ultimo un discorso sulla memoria del lavoro, cioè per quali vie le competenze del lavoro. Noi assistiamo a molti lavori in questo film, c'è il lavoro dei carbonai, c'è il lavoro del pastore, c'è il lavoro della mongitura. Adesso mi informiamo con lui, c'è il lavoro delle pastoie date al capretto. Mi ha spiegato che serve a svezzare il capretto in modo che non ha lati più, perché il latte deve servire agli uomini. Ecco, ma queste memorie possono essere trasmesse anche queste attraverso regole, codificazioni, linguaggi, oppure possono essere semplicemente trasmesse senza nessuna dichiarazione, semplicemente attraverso meccanismi identificatori. In campo neuroscientifico questa viene chiamata memoria procedurale, cioè noi ad un certo punto stiamo per una vita accanto a nostra madre che non ci dice niente di come si fa la pasta alla carbonara e poi da adulti un giorno facciamo la pasta alla carbonara. sappiamo semplicemente che si fa così ma non sapremmo dire com'è che si fa semplicemente la ripetiamo in azione. Questa è una via di trasmissione delle conoscenze che è tipica delle popolazioni primitive. Io ho pensato che si potesse cogliere anche questo. Naturalmente ti chiederei se tu non puoi dire qualche cosa su tutto l'altro aspetto filosofico del film che è quello del passaggio da una condizione all'altra o se tu ritieni di doverlo dire o se invece lo lasciamo al dibattito che ne pensi perché c'erano una serie di fatti che colpivano ad una seconda visione il pastore che da un certo punto in poi porta lui stesso il campanaccio poi lancia la pietra il cane toglie la pietra e proprio questo genera il danno del camioncino rispetto al discorso che stai facendo ci sono delle cose che per me sono state molto emozionanti quando io ho scoperto i cantieri del carbone perché mi ci ha portato un bravissimo fotografo calabrese Luigi Briglia nel 2005 mi sembra e ho conosciuto i carbonai ovviamente la prima cosa che ti colpisce quando arrivi in quei luoghi il fatto che sembra è un bosco sia al centro di un bosco ma sembra un museo d'arte contemporanea con queste strutture resti colpito da questa precisione da queste geometrie che loro realizzano fa pensare a degli iglu di Merz meravigliosi e il cantiere era abitato quando io sono arrivato nel 2005 da una quindicina di carbonai poi io li ho frequentati a lungo in realtà li ho frequentati per anni ho lavorato anche un pochino nel cantiere e piano piano ho scoperto che il carbone lo sapevano fare solo due di loro solo Zeno e Bruno sapevano fare il carbone gli altri che erano parecchi non sapevano fare il carbone nonostante lavorassero lì fossero alcuni della famiglia lavorassero lì da vent'anni e lo sapevano fare Zeno e Bruno perché erano nati lì cioè perché erano proprio nati nel cantiere ed erano cresciuti nel cantiere da bambini assieme al padrone del cantiere capo Dante che è patriarca cioè il vecchio padre che ora comanda il cantiere e non lavora più e loro l'avevano imparato a fare il carbone perché erano nati lì gli altri cugini che ci lavoravano da vent'anni non avevano imparato a realizzare il carbone perché il carbone lo si avete visto quelli che loro chiedono le carbonaie quelli che loro chiamano scarazzi per capire cosa sta accadendo dentro quella montagna di terra e di legna devi saperlo fare per esempio con l'olfatto Zeno capisce annusando a che livello della carbonizzazione è arrivata e quindi cosa deve fare se deve praticare dei buchi e capisce quando lascia cadere della legna nel camino dal rumore che fa cosa sta accadendo all'interno e quindi queste queste tecniche direi che non si imparano insomma e che non e quando sono andato una volta c'era una persona un esperto dell'università di Pisa che mi diceva si è tentato di industrializzare questo sistema e non è stato possibile il loro carbone di legna è un carbone che ha delle qualità non è la carbonella insomma noi l'abbiamo a fine film abbiamo fatto una cena e si è cucinato col carbone di legna vi posso assicurare che tant'è che la loro produzione è una produzione che ormai ha senso e che una volta quel carbone animava un po' tutta la società serviva anche per riscaldarsi ma ora viene utilizzato invece solamente da alcuni ristoranti di lusso soprattutto della Puglia nonostante venga realizzato sulle serre calabresi perché è considerato un prodotto di lusso faticosissimo da realizzare e lo fanno ormai in pochissimi però questa dimensione insomma di un mestiere che non si può trasmettere che non si può veramente codificare ma che si può apprendere solo se sei nato lì imparando ad annusare a toccare ad ascoltare questa cera ed è stato molto emozionante per me scoprire che era così come è stato emozionante scoprire il rito dell'albero e scoprire che loro non sapevano dare un significato a questo meraviglioso viaggio dell'albero dalla montagna fino al paese certo che possiamo pensare ai culti della rinascita al rito della primavera d'accordo poi non si mette un po' lì e studia anche però se a tutti ci è capitato di dire sì ma perché fate questa cosa e loro ti spodevano si fici sempre così si fici sempre così e poi noi possiamo pensare che l'albero sia che ci sia un rito della fertilità questa penetrazione del paese erezione dell'albero al centro della piatta possiamo ragionare tantissimo però loro che lo fanno da secoli dicono si fici sempre così quindi c'è una trasmissione di qualcosa il cui significato è oscuro e queste erano delle cose molto importanti per me nella costruzione del lavoro io ho bisogno anche che il film fosse un oggetto di questo tipo che potesse mantenere una sorta anche di segreto che non fosse risolto che non fosse come dire mi piace mi piace filmare un rito perché un rito ha una narrazione molto precisa che si ripete ogni anno identica quindi sembra esserci una scrittura quando filmi un rito tu hai una sceneggiatura ma non l'hai scritta tu e non si sa chi l'ha scritta perché viene dalla notte dei tempi quindi è molto precisa una sceneggiatura di ferro si potrebbe dire all'americana però non l'hai scritta tu è una bella liberazione da sé è come filmare anche un capretto capretto non lo puoi dirigere gli puoi dire c'è una scena in cui c'è una capra sul tavolo dire alla capra sali sul tavolo che dobbiamo fare la scena vi assicuro che è complicato insomma c'è un come dire un lavorare con qualcosa che non controlli e che per questo ti libera da te e quindi ti dà anche un'emozione molto molto grande perché non stai realizzando qualcosa che su qual è hai ragionato certo ci hai ragionato ma c'è una componente molto importante che è fuori dal tuo controllo tant'è che quella scena quando l'abbiamo fatta quella della capra sul tavolo che era molto importante perché a me ricordava per esempio la scena da bambino in quella casa che era la casa di mia nonna una casa contadina io ricordo da cittadino milanese dove gli spazi sono molto precisi noi abbiamo una distinzione molto precisa tra interno ed esterno alla mia casa a Milano per poter entrare qualcuno doveva citofonare fare le scale prendere l'ascensore bussare insomma per entrare al sud quello che mi emozionava è che il vicino di casa entrava e diceva è permesso e io dicevo ma questo è già entrato permesso che cosa o il pastore che veniva con la capra e la mungeva dentro per non stare a portare secchi e bottiglie si porta la capra e la funge e la capra in casa è un bel perturbante se uso bene questi termini che per voi sono molto più facili e quindi quando quella scena così importante dove un elemento dell'esterno l'animale è al centro della casa quindi era un'immagine per me instabile a proposito di evento dovevamo realizzarla io tendenzialmente quando lavoriamo sul set faccio il primo gesto lo faccio da me insomma mi sono messo dei guanti da lavoro ho chiesto al pastore di portare la capra più mite ha portato questa capra rossa molto bella l'ho presa l'ho alcarezzata poi l'ho sollevata l'ho messa sul tavolo sono andato dietro la macchina presa ovviamente la capra era scesa e mi guardava l'ho ripresa e l'ho fatto una decina di volte dopodiché gli assistenti mi hanno detto tu stai alla macchina lo facciamo noi e per un'ora è stata messa su e lei è scesa perché abbiamo dato la pausa pranzo e mentre mangiavamo ci giriamo e lei è sul tavolo e ci guarda e quindi tutto il lavoro con l'animale è un lavoro che è fuori controllo fatto di attese di previsioni di anticipazioni ma di un lavoro fuori controllo come quello sul rito il rito la festa dell'albero di Alessandria del Carretto c'erano centinaia di persone nel freddo animate dalla vernaccia locale quindi il 99% era completamente ubriaco e non gli potevi dire nulla è stato un po' più sulla destra è completamente fuori controllo e il film è anche questo viaggio progressivamente verso il non controllo perché il primo episodio ha il pastore Peppino al quale io potevo dire adesso Peppino per favore fai queste scale vieni dentro e apri la porta poi vedrai le lumache e le prendi una a una però al capretto dirgli adesso fai questa cosa qui non si poteva fare al rito e il carbone il carbone è un altro rito in alcuni momenti per loro perdere una carbonaia che si può incendiare da un momento all'altro è qualcosa che non può accadere perché sarebbe una perdita economica enorme e quindi mentre noi giravamo c'erano dei momenti in cui ti dicevi Bruno per favore puoi salire e lui non ti guardava perché doveva fare le sue cose il suo mestiere altrimenti avrebbe perso il lavoro e qui tu continuavi a filmare questo viaggio dall'uomo che può essere visto ma non è obbligatorio come un viaggio di reincarnazione la Calabria è una regione con una cultura annista può essere visto come un passaggio del testimone di un uomo che muore nasce un animale che si spegne poi c'è un albero può essere visto così a proposito di Pitagora che è stato un calabrese insomma può essere visto in questo modo ma non è obbligatorio però è anche un viaggio verso il non controllato fino a un quasi minerale che è il carbone che però ha una sua vita che ha una voce che è un viaggio anche in questa direzione No, naturalmente mi affascina molto questa esperienza di una relazione con un oggetto non controllata perché è la nostra esperienza di psicoanalistico di Diana però ti diceva di un'analisi si possono sapere soltanto le prime mosse le ultime ma non tutto quello che accade dentro un'analisi durante un'analisi perché? perché abbiamo a che fare con il non cognitivo così come tu hai avuto a che fare con comunicazioni e linguaggi che non erano codificati erano semplicemente in azione ed erano spesso avevano a che fare col sensoriale per esempio l'olfatto come mezzo per orientare le procedure lavorative a sentire se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa a interessi qui davanti un attimo che deve arrivare il microfono ecco arriva subito un attimo salve forse perché sarò un futuro collega però ho fatto un pensiero abbastanza simile mentre guardavo il film mi sono detto in questo film tra moltissime virgolette non succede niente nel senso non c'è una storia codificata facile l'eroe il cattivo e tutto quanto eppure sono molto interessato non perdo un momento non c'è un attimo in cui la mia attenzione fluttui e quindi come mai come mai cosa c'è in questo film c'è la vita c'è la vita però posta in una maniera molto molto particolare che io trovo molto poetica sono tre vite tre vite che terminano quella del del pastore quella del capretto è quella dell'albero e ognuno porta all'altro è una vita la vita del pastore è giunta al compimento dopo insomma il suo naturale corso quella del capretto era appena incominciata e quella dell'albero chissà quanta era antica ma nessuna di queste di queste morti intacca minimamente la vita in senso più più ampio la vita va avanti scorre appunto alla temporalità e questo l'ho trovato insomma molto molto poetico molto bello poi magari come dissero i Beatles no no bellissime tutte queste cose che vedete nelle nostre canzoni ma noi non le abbiamo pensate per niente certo grazie c'è qualche altra suggestione qualche altra io sono pure calabrese sono di Cosenza e mi ha molto colpito alla fine il recinto non ristrutturato mi è sembrato un addio o una mancanza di futuro nessuno al contrario di questo giovane che vede la vita che continua a me è sembrata invece una sorta di abbandono non c'è futuro forse per questa per questo tipo di vita non so come l'ha vissuto lei perché l'ho visto il recinto abbandonato a terra nessuno l'ha ristrutturato è davvero un film per me di cui bisogna appropriarsi quando lui dice non so perché sono rimasto lì a guardare non so se vale per tutti perché non credo che venga per tutti qualcuno si annoia anche moltissimo però per me doveva essere un film vivo come dicevo prima questa era veramente la questione fondamentale che fosse vivo non so per esempio abbiamo citato Pitagora prima un po' per gioco questa cosa della metempsicosi del passaggio di stato da uomo ad animale però per esempio io non so come l'avete sentito qui ma c'è stato un lavoro lunghissimo al suono al mix che abbiamo fatto in Germania perché io volevo che i suoni venissero solo dallo schermo qui avete un 5.1 quindi ci sono dei suoni che vengono da qui alcuni che vi avvolgono alcuni che vengono dietro c'è il Dolby io non volevo che quelle case si accendessero volevo che si accendesse solo questa quella qui dietro perché volevo che il suono stesse dietro a segnare che c'è un dietro delle immagini cioè che c'è qualcosa che sta dietro anche in questa reincarnazione se così è tu vedi il capretto ma è un'altra questo personaggio invisibile che è uno spirito che è un'anima che sta facendo questo viaggio tu vedi dei corpi ma è ciò che sta dietro che tu stai inseguendo lo dico adesso un po' ci sono stati dei cineasti che dicevano la macchina presa filma l'anima filma l'invisibile ecco poi insegue questa cosa che sta dietro e allora qualcuno dice che le lezioni di Pitagora fossero fatte così cioè che per cinque anni quelli che venivano chiamati accusmatici i suoi allievi da lì il suono accusmatico di cui non vedi la fonte che Pitagora facesse lezioni da dietro un velo perché questi poveracci stessero cinque anni di fronte a uno schermo quindi un cinema con una voce che veniva da dietro io volevo che la struttura di questo film fosse questa perché il film non dovesse essere compiuto ma ci fosse questo dietro da scandagliare insomma e quindi di cui appropriarsi io spero che sia anche questo che ti ha dato questa sensazione che non è detto che tutti abbiano per cui per me è un film vitale al di là di tutti i segnali della nostra terra che ha anche l'abbandono eccetera eccetera però per me doveva essere vitale mi sento vicino a quello che lui ha detto però un film vivo deve essere anche capace di accogliere altre letture ovviamente grazie un attimo che arriva il microfono solo un secondo se no non sentiamo perché si chiama le quattro volte perché ci sarebbe questa frase attribuita a Pitagora che adesso ripeterla sei anni dopo l'uscita del film è una prova non facile ma una frase attribuita a Pitagora che recita all'incirca così noi abbiamo quattro vite dentro di noi perché siamo minerali perché abbiamo uno scheletro fatto di sali minerali e altre sostanze però siamo anche vegetali perché abbiamo il sangue che scorre come linfa però anche animali perché dotati di mobilità ma anche esseri razionali e quindi per conoscerci dobbiamo profondamente dobbiamo conoscerci quattro volte il titolo veniva da questo da questa frase attribuita a Pitagora sempre un attimo un attimo questi film dove vengono distribuiti nelle farmacie come il Roit per chi non riesce a prendere sondi a questa ora così no la distribuzione è normale questo era distribuito dall'istituto luce ed ha una distribuzione normale poi sono quando uscì nel 2010 in Italia ebbe una distribuzione minima c'erano una ventina di sale quindi veramente quasi inesistente in altri luoghi invece ha avuto una distribuzione significativa insomma grazie mi è sembrato un film anche molto mi ha ricordato molto alcune cose di Wenders c'è nel film l'amico americano il protagonista anzi la protagonista che a un certo punto legge una poesia che sarà poi il titolo del film nel corso del tempo dove dice e la vita scorre nel corso del tempo senza bisogno di inventare storie e che fa parte un po' di tutta anche la filosofia non solo di Wenders ma anche un film a me è sembrato anche un po' in un certo senso orientale in questo senso del ciclo della contemplazione di una vita che continuamente si trasforma e passa e si manifesta nelle sue diverse forme e anche nella possibilità che è un concetto tipicamente tipicamente zen per cui in qualche modo il contatto diretto con lo spirito profondo delle cose della natura non lo si ottiene tanto attraverso la meditazione su qualche cosa di specifico ma invece proprio nell'osservazione silenziosa della realtà che scorre ecco Vendersi senza inventare storie quindi mi sembra un film molto a me mi è piaciuto veramente molto molto denso molto molto una domanda al regista io ho visto il film quando fu distribuito insomma qualche anno fa nelle 20 sale insomma qui e ne rimasi devo dire molto colpito e innamorato quindi mi chiedevo mi sono chiesto all'epoca chissà quando si potrà vedere qualche altra cosa di questo regista e quindi la mia domanda è se stai lavorando a qualcos'altro ho lavorato tre anni a un progetto che adesso si è fermato che non so se si farà quindi non ti so dire cioè io in questo momento non dovrei essere qui ma dovrei essere sul set quindi la mia presenza è tragica diciamo quindi non te lo so dire ti posso dire che tre anni dopo abbiamo fatto un lavoro che era una installazione su un culto arboreo di Satriano di Lucania quello degli uomini albero e quindi nel 2013 abbiamo realizzato questo lavoro su questi uomini completamente vestiti di edera che attraversano il paese è stato un lavoro abbastanza impegnativo e dal quale poi stava nascendo quest'altro film al quale dovrei lavorare in questo momento e quella era un'altra cosa interessante perché gli abbiamo preso un culto che stava scomparendo a Satriano di Lucania questi uomini vestiti di edera irriconoscibili che entrano nel paese quindi portando questo respiro però però quel rito era costituito da uomini solitari e allora quando mi hanno chiesto di lavorare su questa cosa io gli ho detto vi sentireste di farlo di fare una foresta che cammina non farlo come individui proprio perché in questo modo questa foresta un po' macbettiana entra e la piazza si trasforma in una foresta che è stata sicuramente chissà quando loro sono stati molto molto generosi se qualcuno fosse venuto nel mio paese a dire ma cambiamo il rito del vostro paese non vi dico cosa avremmo risposto invece loro sono stati molto generosi l'hanno fatto abbiamo realizzato questa installazione e la cosa molto interessante è che dopo aver fatto questa cosa il loro rito è cambiato ed è diventato una foresta che cammina hanno mantenuto la forma come dire spontanea c'è chi vuole vestirsi solitario lo fa ma un giorno all'anno loro realizzano questa foresta che cammina e quindi c'è la memoria il rito però poi c'è questa sorta di scommessa di cambiamento era molto interessante quello che è accaduto e che mi aveva portato poi a pensare questo lungo proprio su questi uomini albero ma non ho ho la sensazione che non si farà più sono tre anni di lavoro quindi è una cosa un po' dolorosa quindi non ti so dire quando faremo un'altra cosa credo io il film l'avevo già visto l'avevo visto al cinema Minion quando uscì e mi aveva colpito molto infatti volevo tornare a vederlo per vedere che effetto mi avrebbe fatto la seconda volta devo dire che ha mantenuto un forte impatto tempo dopo mi trovai a Londra per caso e mi capito tra le mani uno di questi giornali che regalano nelle metropolitane e c'erano due pagine dedicate al tuo film e rimasi colpito se ne parlava in termini entusiastici volevo sapere un po' il film so che ha viaggiato molto qual è stata la risposta del pubblico secondo me è un film complicato già per noi capire certi la processione certi riti immagino per una persona islandese prima citava un premio che ha preso a Reykjavik si ha vinto ha vinto come è stato spiegare se c'è stato bisogno di spiegare ulteriormente il film un risparmio in questo film è stato per esempio non c'era bisogno dei sottotitoli film come dire che comunica attraverso altre vie se ce la fa in realtà per me è stato sorprendente il viaggio che ha fatto per esempio è vero che in Gran Breedan in Gran Breedan è andato benissimo e anche in Francia è andato in maniera assolutamente inaspettata anche da parte dei coproduttori non ci aspettavamo questa cosa qui a New York al Film Forum ha fatto tutto esaurito per settimane è stato venduto in una cinquantina di paesi che è una cosa che al cinema italiano non accade quasi mai solo Gomorra di Garrone ha avuto ovviamente parliamo di piccoli poi distribuzioni in generale tranne alcuni paesi appunto come la Gran Bretagna e la Francia quindi per noi fu veramente inaspettatissimo sia le vendite sia la risposta insomma di alcuni paesi e anche il fatto che ci fosse questa partecipazione in luoghi dove non per esempio quando abbiamo fatto quell'installazione dell'uomo albero quindi su un culto lucano antico e la prima l'abbiamo fatta al MoMA a New York ed è c'è stata una risposta fortissima veramente fortissima rispetto a qualcosa di anche potenzialmente mica poco noioso invece la cosa curiosa per me è che sono d'accordo anch'io che c'è un atteggiamento se vuoi anche un po' orientale prima hai parlato di Wenders è un grande cultore del cinema di Ozu lo sapete meglio di me sulla tomba di Ozu c'è solo un ideogramma che è mu vuoto tutti sappiamo lo sapete meglio di me perché è il vostro mestiere che il vuoto orientale è un pieno di possibili non è solo la negazione del pieno e poi questo film è costruito così tutto il mancante tutti i vuoti da riempire sono dei vuoti da riempire con la tua interpretazione per cui per esempio ha avuto delle vendite in Oriente per esempio io sono stato a Tokyo per la promozione del film ma lì non è andato benissimo è andato per esempio se avessi dovuto scommettere nel momento in cui è stato acquistato in Oriente avrei pensato lì potrebbe andare meglio e invece sono successe appunto cose buffe come il nord Europa che ha risposto molto bene e altri paesi che hanno risposto meno bene e che magari era più possibile è stato curioso però è stato un viaggio del film anche molto assolutamente inaspettato forse perché per loro però è anche come dire tu porti una riflessione che per loro è così quotidiana così di cui sono talmente impregnati che forse è anche meno perturbante anche meno c'è una un biologo francese che ha vinto il Nobel per la biologia con la teoria della stabilità della forma che mi ha ricordato quando tu dicevi di queste cose come cambiano la stabilità della forma vuol dire che in un certo senso l'evoluzione della vita è avvenuta non tanto come si crede perché ci sono le mutazioni perché le mutazioni determinano il cambiamento ma se non ci fosse una forza intrinseca che ripete continuamente le strutture biologiche per quello che sono tutti i cambiamenti legati alle mutazioni andrebbero perse nel giro di pochissime generazioni dunque noi siamo il frutto di un equilibrio instabile legato a questa continua contrapposizione tra il cambiamento e la stabilizzazione e questo film a me ha colpito anche per questo che in qualche modo rimanda a una sorta di tranquillità che deriva da questa stabilità delle cose che durano nel tempo e fissano le memorie ma nello stesso tempo c'è il cambiamento c'è la vita c'è la morte le cose che cambiano e come tu dicevi anche gli stessi riti possono subire e subiscono dei cambiamenti delle mutazioni quindi questo mi sembrava quello è molto interessante permanga qualcosa per secoli però con un leggero continuo mutamento per esempio il rito dell'albero prevedeva fino a qualche decina d'anni fa anche un momento più cruento per esempio venivano il rito dell'albero prevede che l'albero venga essato e poi c'è questa salita dei spavaldi i ragazzi più spavaldi del paese che possono recuperare dei doni ma fino a 20-30 anni fa venivano legati anche dei capretti vivi sull'albero e poi i cacciatori del paese dovevano sparare e ucciderli prima della salita e quindi c'era questo momento del sangue che colava lungo il tronco che ha comunque a che fare con la fertilità con la nascita la rinascita e quindi il rito ha continuato a cambiare pur restando questa essendoci questo come dire affascinantissima invasione della piazza cioè il luogo dell'uomo da parte del vegetale però ha continuato a mantenere una mutazione leggerissima costante come è anche il mestiere dei carbonai è antichissimo ma ha continuato a cambiare a diventare un cantiere prima loro erano nomadi eccetera eccetera quindi c'è una dimensione di coesistenza della permanenza e del cambiamento una cosa che mi ha colpito è la mancanza del dialogo la mancanza della parola non a caso è una cosa forse stata un po' trascurata non so quanto il regista l'abbia utilizzata inconsapevolmente per impegnare lo spettatore a un qualcosa di regressivo molto forte perché ovviamente il dialogo come diceva il dottor Moccia è un qualcosa dello stadio evolutivo successivo qui stiamo mi dà la sensazione che stiamo valutando ci siamo un po' immersi a fasi livelli di conoscenza e quindi fenomeni che sono stati descritti in psicanalisi nel classico animismo idolateria superstizione tutto quello che va sotto questa forma quindi da questo punto di vista si potrebbe pensare a tanti casi dal monaco di Bedano al kamikaze alla insomma l'uomo primitivo eccetera ci sarebbero tantissimi casi da esplorare da mettere a confronto da utilizzare per conoscere di più l'evoluzione dell'uomo sia in senso singolo sia in senso sociale sia in senso storico diciamo ecco però a parte questa osservazione diciamo che per me è stato molto forte questa cosa forse credo inconsapevole il regista ci potrà dire qualcosa di meglio della mancanza della parola che è imposto perché l'imposto del regista è la mancanza della parola e anche la mancanza della musica cioè per assurdo per fare un confronto all'inizio del cinema facevano mille sforzi per cercare di mettere il dialogo la parola o la sensazione la comunicazione insomma con i cartelli facendo espressioni molto esagerate nella scenografia nelle azioni nella mimica nelle cose quindi invece in questo film è stato mi viene tragicamente censurato cioè è negato imposto perché perché si voleva scendere a un livello inconsapevolmente il regista ci ha proposto una cosa molto forte di andare a vedere delle cose che lui desiderava di conoscere di vedere e di esprimere quindi è stato uno strumento un mezzo che il regista ha cercato di mettere in atto non lo so questo stesso strumento probabilmente si potrà riutilizzare in altri film in altre occasioni e magari io adesso non conosco la storia del cinema però sarà stato sicuramente utilizzato in altre occasioni in altri posti in altri film insomma cioè ci stanno diversi aspetti quindi la fase idolateria lo strumento del film senza parole cosa si vuole andare a descrivere però ovviamente a questo punto diventa una cosa molto bloccante è molto traumatica perché se ci fermiamo solo lì ovviamente diventa una tragedia diventa un qualcosa che non ha sbocco non ci ha uscito in nessun senso e quindi bisognerebbe anche a un certo punto magari stabilire un ponte che è il ponte della conoscenza dello sviluppo dell'uomo per cui attraversando quelle fasi attraversando quelle cose in senso singolo ma anche in senso sociale in senso culturale in senso storico poi comunque si approda ad altre cose perché no corre il rischio di diventare quasi uno psicodramma che rimane lì inglobato grazie no soltanto per appoggiare sì sì adesso risponderà sicuramente dicevo che il film ci parla come ci parlano i sogni per immagini affetti no quello che posso dire rispetto alla questione della della parola che voleva essere un viaggio sì 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 ma questo è un film in cui manca tutto perché mancano pure i movimenti di macchina mancano gli attori a un certo punto mancano pure gli uomini perché ci sono alberi bestie no quindi proprio è un film in levare manca un po' di tutto certo manca la parola perché siamo abituati a vedere ad ascoltare film molto parlati no molto musicati per cui però non è obbligatorio che sia che sia così sicuramente un film costruito in levare e anche a provare a vedere cosa resta alla fine se tolgo tutto insomma no e a me affascina l'idea di arrivare per esempio il linguaggio cinematografico ha l'uomo come unità di misura la scala dei campi dei piani è dominata dall'uomo il primo piano il volto di un uomo la mezza figura è un'inquadratura che inquadra dalla vita fin sopra no quando si parla con il direttore della fotografia si dice fammi un campo medio un campo medio è un inquadratura dove c'è un ambiente che è in equilibrio con la presenza umana quindi la presenza no è il linguaggio che si adopera e che determina l'uomo come centro di questo linguaggio ma non esistiamo solo noi su questo pianeta allora se io filmo un albero come lo filmo il casting dell'albero a me ha richiesto per scegliere l'albero io ne ho visti mi sembra 400 di abeti bianchi pastore ne ho visti tre è stato significativo per me quanto è stato complicato scegliere l'albero giusto è un film dove non manca solo quello mancano tantissime cose ed era un film in cui si cercava almeno io cercavo di costruire un rapporto tra l'uomo e l'intorno dove l'uomo non fosse il sovrano dove non fosse l'unico protagonista possibile perché un linguaggio cinematografico che prevede solo l'uomo come centro è un linguaggio che esclude tutto il resto e quindi in questo viaggio in cui l'uomo non doveva essere il centro non volevo neanche che la parola fosse il centro o fosse lo strumento per comunicare per dare informazioni o per far avanzare la narrazione dovevo utilizzare altri dispositivi la parola è stata la prima cosa che è stata tolta poi io devo dire che lavoro sempre così nel senso che negli altri film che ho fatto sostanzialmente non ci sono dialoghi c'è la voce perché la voce dell'uomo si sente però sta in equilibrio con gli altri rumori con i frusci è una presenza come dire sonora tra le altre e nonostante e lo dico nonostante poi ci sia stato un lavoro sul suono quasi accanito nel senso che solitamente quando si gira un film ci sono 50 persone che lavorano sull'immagine e uno che lavora sul suono cioè il fonico è uno e quando per esempio si rifà una scena la si rifà perché non ha funzionato la scena cioè la parte visiva non si rifà mai una scena perché non ha funzionato il suono si rifà la battuta a vuoto si dice e questo la dice lunga come la nostra cultura sia una cultura dell'occhio e non dell'orecchio noi sul film avevamo a parte che c'erano più persone al suono perché spesso c'era una dislocazione di microfoni piuttosto complessa per costruire una profondità non solo di campo visivo ma anche ma noi rifacevamo la scena completamente quando non funzionava il suono proprio per questa forma di democrazia verso verso l'orecchio quindi c'è un lavoro enorme sul suono enorme ma non nella direzione della parola che mi avrebbe riportato a collocare l'uomo al centro mentre era un film che lo voleva spostare un po' più ai margini dell'inquadratura e ieri c'era di voi che abbiamo parlato del film muto abbiamo discusso a lungo su questo sui veri registri no? prima di chiudere perché stiamo un po' addirittura d'arrivo mi pare che abbiamo detto molte cose non aggiungerei molto se non ribadire che mi pare che siamo tutti d'accordo ciò che ci ha colpito è che abbiamo visto un film sull'essenza delle cose e per cui il discorso il discorso della parola sarebbe un discorso che sottrarrebbe un significato emotivo certi significati emotivi possono essere colti soltanto attraverso le immagini oppure attraverso la ripetizione la ripetizione è quella che facciamo anche quando osserviamo delle immagini oramai è una conoscenza diffusa a livello anche del grande pubblico la scoperta neuroscientifica dei neuroni specchio neuroni motori che si attivano anche quando non ci muoviamo ma osserviamo il movimento intenzionale di altre persone e che si attivano anche quando non proviamo nulla ma osserviamo la sofferenza e gli affetti di un'altra persona quindi vedere e capire per immagini è una modalità primaria ampiamente totalmente inconsapevole e che ha a che fare con il processamento degli affetti prima ancora di poterlo pensare normalmente noi siamo portati a immaginare che c'è tutta una linearità per cui noi prima non capiamo poi a un certo punto cominciamo ad intendere e cominciamo a rappresentare da quel momento in poi compare la possibilità di registrare le nostre esperienze e di poterle ricordare oggi abbiamo scoperto che noi possiamo memorizzare prima ancora di avere una capacità di ricordare e che cosa prevalentemente memorizziamo le interazioni quiete naturalmente memorizziamo anche quelle traumatiche però quando le cose vanno bene è il ritmo quieto della vita cioè le interazioni fra noi e il nostro ambiente in cui ci sono modulazioni affettive mi colpiva che il regista diceva che me lo diceva prima che quando si rinnova ogni anno la ritualità dell'albero si sopiscono tutti i conflitti fra le famiglie del paese e si è come uniti nella riedizione dell'esperienza questo naturalmente non soltanto perché ogni rito come sapete ha a che fare con la necessità di esorcizzare le angosce della morte le angosce della perdita e quant'altro ma credo che abbia anche a che fare con una memoria la memoria della condivisione e del lavorare in gruppo tutto ciò non è soltanto memoria di procedura operativa è come si fa a portare l'albero quella è una scena molto bella per esempio perché c'è la descrizione di un lavoro ma anche di quali relazioni affettive ci sono fra le persone mentre si sta facendo questa operazione ecco tutto questo nel momento stesso in cui io lo dico già vale infinitamente di meno a quando invece lo vediamo perché quel livello di conoscenza implicita emotiva passa solo attraverso l'immagine un momento poetico del film io l'ho trovato nell'indugiare della macchina da presa sulla polvere della chiesa questa è una cosa di cui non abbiamo parlato non sappiamo perché il pastore prende la polvere della chiesa come medicina per il suo malanno ma in quell'immagine nella polvere della chiesa nell'incontro fra il pulviscolo dell'aria e l'intersezione con il raggio di sole io credo che noi possiamo immaginare non tanto per quanto può essere anche la ricerca di Pitagora sull'anima che lì forse rintraccia ma che l'anima forse coincide con questo nostro nucleo più profondo del sé affettivo e preverbale ecco io direi questo benissimo grazie allora Michelangelo Franmartin Giuseppe Moccia voi siete rimasti con noi fino a quest'ora e continueremo continueremo domani questa rassegna parleremo invece domani del futuro con un film di fantascienza e poi avremo la prossima settimana con noi sia Cavani Marco Bellocchio insomma Visciceli continueremo grazie ancora arrivederci